allora signori il più costoso impianto del monaco ienda tutto nagra con le casse wilson ecco super guardate che meraviglioso registratore a bobine tutte elettroniche nagra il nuovo giradischi della nagra guardate che meraviglia con pre amplificatore fono ecco qui il tutto per una cifra che supera abbondantemente il scusa il milione di euro non male no forse il più caro che c'è qui